Fulmini 7 è una bordata di pioggia. Non si ferma il continuo transito di perturbazioni sulla Pedemontana e sui rilievi del Bassanese, dove da giorni si alternano piovaschi e brevi periodi di bel tempo. I temporali sono stati caratterizzati da un gran numero di fulmini, come spiega in modo egregio la bella foto scattata sul massiccio del grappa da Fabrizio Stona, subito rilanciata sui social bassanesi. Dal fine settimana sono caduti fino a 60 millimetri di pioggia nelle varie località pedemontane, ma le perturbazioni sono in esaurimento e lasceranno alle proprie spalle un clima decisamente più fresco.